Buongiorno a tutti, è con grande piacere oggi che vi parlo di un viaggio speciale che organizzeremo come UTAT Viaggi nel mese di ottobre, il nostro classico viaggio in New England, New England ad autunno, un viaggio firmato UTAT che nel sottotitolo già dà un'idea delle tematiche di questo viaggio che è un viaggio veramente d'incanto che a me piace particolarmente. Le tematiche sono quelle del foliage, quindi il colore delle foglie nell'autunno appunto del New England che dà questo spettacolo plurifotografato che persone da tutto il mondo vengono a vedere, il whale watching, quindi le balene e tutta la tematica legata alle streghe, al Halloween che negli Stati Uniti nel mese di ottobre è molto sentita e particolarmente in questa zona degli Stati Uniti, nel New England. Allora intanto inquadriamo un attimo dove siamo. Il New England è un gruppo di Stati, il Maine, il New Hampshire, il Vermont, il Massachusetts, i Connecticut e Rhode Island che si trovano all'estremità settentrionale della costa est degli Stati Uniti. Siamo molto in alto, come vedete confiniamo addirittura con il Canada. È un luogo magico e importante, importantissimo per molti motivi. Il primo motivo è perché viene considerata da sempre la culla della storia americana. È qui infatti esattamente nel 1620 che i padri pellegrini, 110 padri pellegrini, che avevano lasciato la madrepatria Inghilterra perché perseguitati per il loro puritanesimo religioso, decidono di lasciare appunto la madrepatria e di partire a bordo della nave Mayflower per arrivare nel nuovo mondo. Partono in circa 110, curioso sapere che c'erano ovviamente uomini e donne, c'erano dei bambini, ci sono stati due bambini che sono nati durante la navigazione, c'erano degli animali, delle mucche, c'erano dei maiali, il tutto in una nave relativamente piccola, con un sottobordo relativamente piccolo. Questa navigazione durò circa due mesi, due mesi difficili mi immagino, al termine dei quali loro sono entrati in questa specie di gomito che viene formato da Cape Cod, questa ansa, entrarono dentro lì ed approdarono in quella che adesso è la località che porta appunto il nome di Plymouth. Lì trovarono gli indiani nativi, gli indiani rohanoke, che veramente furono molto molto collaborativi nell'aiutare questi padri pellegrini ad inserirsi in questo nuovo mondo del quale non conoscevano il clima, quindi non conoscevano le colture, non sapevano come organizzarsi. Lì ci fu un bel annetto tra il 1620 e il 1621, in cui lavorarono insieme gli indiani nativi rohanoke, con i coloni e i padri pellegrini e avviarono queste prime colonie, queste prime agglomerati villaggi e queste prime colture. La cosa andò talmente bene che poi nel novembre del 1621, ultimato il primo raccolto, ultimate i confezionamenti, degli approvvigionamenti legati al primo raccolto che loro avevano avuto, decidono di fare tutti insieme, indiani rohanoke e padri pellegrini, una grande festa, la festa del ringraziamento, per ringraziare appunto delle colture, ed è da lì che nasce questa tradizione tipicamente americana della festa di Thanksgiving. Quindi c'è un discorso storico nel New England che ha a che vedere proprio con la genesi, con la nascita degli Stati Uniti d'America, c'è un forte passato coloniale che ha lasciato a livello di paesaggi, di costruzioni, di case, di arredamenti, di impostazione delle forti influenze britanniche in questa zona, come dice appunto il nome della zona, New England. Però da qui è partita anche la rivoluzione per l'indipendenza americana, nel 1776. Da qui, qui sono arrivati i primi coloni, ma è anche da qui che i coloni si sono ribellati all'Inghilterra, facendo quel famoso affronto chiamato Boston Tea Party, cioè rifiutando l'ennesimo quantitativo di tasse che la madrepatria Inghilterra aveva riversato sulle colonie, facendo questo gesto molto plateale di prendere le balle delle foglie di tè che stavano su questa nave che entrava in Boston e buttandole tutte a mare. Questo atto di ribellione, di profanazione, diciamo, nei confronti della madrepatria Inghilterra, ha dato il via all'indipendenza americana, alle lotte per l'indipendenza americana. Da sempre è un luogo progressista e illuminato, un luogo dove l'istruzione media è molto alta, un luogo accogliente verso chiunque, un luogo che ha giocato un ruolo basilare sia nell'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti d'America sia nell'abolire la pena di morte. e sappiamo che in alcuni stati negli Stati Uniti ancora è in funzione la pena di morte, gli stati del New England sono stati fra i primi ad abolire la pena di morte. Un'idea di alcuni personaggi generati, tra virgolette, da questa zona meravigliosa, beh, il cittadino più eccellente, più tipico, più simbolico di questa zona è John Fitzgerald Kennedy, che sia a livello di idee, di valori, che di anche, oserei dire, aspetto, più veramente rappresenta il New England, il bostoniano tipico. Però in questa zona abbiamo avuto anche Edgar Allan Poe, un altro scrittore, abbiamo George W. Bush, che contrariamente a quanto si crede non è texano, lo scrittore di libri dell'orrore Stephen King, che vive in questo cottage molto bello nel Maine, la scrittrice di piccole donne, Louisa May Alcott, per gli amanti della musica Carly Simon e James Taylor, ancora risiedono in New England, Carly Simon sull'isola di Matta's Vineyard, e James Taylor nella zona delle Berkshires, gli attori Ben Affleck e Matt Damon, la Yankee Candle, che è una delle, dei marchi commerciali più famosi del New England, ed è un'azienda, la prima azienda, che ha creato il concetto di candele profumate, ora sono esportate in tutto il mondo, e trovate veramente candele con le profumazioni di ogni tipo. Il Vermont Teddy Bear, che è un altro simbolo del New England, ed è il piccolo orsacchiotto fatto a mano, che è stato creato da un artigiano di Burlington, nel Vermont, negli anni ancora 50-60, e poi ha cominciato ad essere esportato, adesso è veramente un marchio del New England, il Vermont Teddy Bear, questo orsacchiotto di peluche. Lo sciroppo d'acero, che è uno dei prodotti principali della zona, insieme alla ragosta, delle quali parleremo dopo. Le scarpe New Balance, la New Balance è l'unica ditta di scarpe americane, e cosiddette americane, che ancora produce interamente negli Stati Uniti, in New England. I country stores, che sono queste botteghe artigianali della provincia, dei villaggi, che sono tipiche di questa zona, che si trovano quasi esclusivamente in questa zona americana, sono delle botteghe dove sembra veramente di fare un salto indietro nel tempo, dove si trova dalla conserva, alla cuffietta per dormire, piuttosto che alla camicia di notte della nonna, all'utensile per la cucina, ai piccoli tovaglioli ricamati, ai rimedi miracolosi per fare mille cose, è una caratteristica, questi country stores sono delle gioie per gli occhi, quando si attraversano questi villaggi del New England e ci si ferma a visitarne uno, è veramente un'esperienza a sé, e poi mi piace anche menzionare quelli che vengono considerati i gelati più buoni al mondo, i gelati industriali più buoni al mondo, i gelati Ben & Jerry's, che sono ora esportati in tutto il mondo, li potete gustare ovunque, e che nascono anche questi in Vermont, che è uno stato con molti allevamenti, molta pastorizia, con un latte buonissimo, e anche qui questi due amici, Ben & Jerry's, hanno inventato proprio a Burlington, sono partiti creando questo gelato artigianale buonissimo, che poi è diventato quello che è diventato, quindi questa è un po' la panoramica generale del New England. Passiamo ora al nostro programma di viaggio. Allora, le ho date, ve le ho date, siamo dal 10 al 15 di ottobre, due parole relative al mese di ottobre in New England. Il New England, che nei mesi del profondo inverno è solitamente soggetto ad un clima abbastanza rigido, in questo mese di ottobre, come per magia, vive una sorta di sospensione, quindi c'è un clima straordinariamente mite per l'area, che loro chiamano Indian Summer, l'estate indiana, e che sembra essere stato creato appositamente per poter ammirare in piena libertà questo spettacolo della natura che è legato appunto al colore che prendono le foglie dei vari alberi, dove troviamo un'altissima concentrazione di aceri, aceri rossi, che danno queste colorazioni che vanno dal giallo al rosso, all'ocra, al rosa, bellissime. Quindi sembra proprio in una zona in cui poi l'inverno veramente picchia duro, sembra una magia che il mese di ottobre sia baciato da questa Indian Summer. Si arriva, si parte qui dall'Italia con volo su Boston, ripeto, l'accompagnatore sarà con voi per tutta la durata del viaggio. All'arrivo a Boston si farà il trasferimento privato in hotel durante il quale la guida vi fornirà una prima introduzione della città. La città di Boston viene considerata, poi c'è la cena in hotel e il pernottamento, la città di Boston viene considerata una fra le più piccole metropoli americane, proprio la definizione è questa. È una metropoli a tutti gli affetti, non è un paese, è una città grande, che però ha la caratteristica di essere visitabile a piedi, ha delle zone centrali che si snodano, che sono tutte molto vicine e che possono essere appunto visitate nel corso di passeggiate. È una caratteristica che piace molto agli italiani, il fatto di avere un centro così conglobato, così raccolto, che consente questa visita a piedi. è una delle città più antiche per i motivi che abbiamo visto prima degli Stati Uniti d'America, è stata fondata nel 1630 e diciamo che l'intera storia della città è ben riassunta in quello che viene chiamato il Freedom Trail, il percorso della libertà, che è un percorso pedonale di 4 chilometri che si snoda nella città e che conduce ai 16 luoghi di interesse storico della città, della Boston rivoluzionaria, in cui si sono svolti quegli eventi che abbiamo visto prima, che hanno poi condizionato tutto il resto della storia americana. La partenza è il Boston Common, ci sono tante cose a Boston che sono le prime, no? Boston Common, per esempio, è il primo parco pubblico americano, poi a Boston abbiamo la Boston Public Library che è la prima biblioteca pubblica americana. Ovviamente, essendo una delle città più vecchie, più antiche, ci sono molte cose che qui sono state le prime, percorreremo quindi con la guida oggi, il secondo giorno, il Freedom Trail. Nel corso del Freedom Trail faremo le soste al Boston Common, all'Old State House, a North End che è la zona degli italiani, degli immigrati italiani con l'alta concentrazione di italiani. Visiteremo a piedi la bellissima zona di Beacon Hill che è quella che vedete nella fotografia qui a lato, è una zona che è poco distante dal Boston Common che parte da questa via che si chiama Newbury Street che è la via degli antiquari, da lì si snodano una serie di piccole viette in salita, scoscese, col ciottolato, lungo le quali troviamo queste meravigliose case a mattoni rossi con imposte verdi con degli ingressi e delle composizioni floreali che veramente fanno venire voglia di fermarsi a fare fotografie ad ogni ingresso. Nel periodo poi di Halloween, in tutto il mese di ottobre, voi vedrete in tutto il New England ma anche qui a Beacon Hill in questo quartiere residenziale bellissimo, ricchissimo, molto raffinato, queste esposizioni con zucche e altre cose direttamente sulle porte delle case è veramente un'esperienza fare questi giretti a piedi nella zona di Beacon Hill. Come dicevo prima, poi si passerà al North End, si farà una sosta a Queen's Market, Queen's Market è un mercato coperto, era un mercato coperto, ora interamente dedicato a negozi e ristoranti, nei prezzi del Queen's Market c'è anche il Boston Public Market che è anche un luogo dove i vari diciamo produttori, coltivatori si recano a vendere i loro prodotti ed è anche un posto dove si può mangiare varie cucine. Un piccolo inciso sulla cucina in New England allora il New England è un luogo particolare un po' diverso dal resto dell'America è un luogo che ha delle prelibatezze autoctone che sono per esempio i crostacei le vongole che sono le vongole degli Stati Uniti sono grandi una vongola quasi come il palmo di una mano ovviamente le lobster quindi le aragoste gli astici e tutto il discorso del farm to table in questi paesi in questi stati del New England viene seguito questo tipo di criterio gastronomico il chilometri zero il farm to table quindi ci sono dei menu che privilegiano i prodotti del territorio i prodotti a chilometri zero e vi anticipo che in alcune zone ovviamente non a Boston ma in alcune zone del New England è proibito è proibita la presenza di ristoranti di catena come i Burghies i McDonald's eccetera i Kentucky Fried Chicken così come in alcune zone del New England sono proibiti anche i negozi di catena quindi questi negozi che poi sono uguali in tutto il mondo e in alcune altre zone sono proibite le insegne al neon quindi c'è un tentativo globale da parte di questi stati del New England di rispettare le loro tradizioni le loro tipicità e questo si riflette anche nelle scelte alimentari che come dicevo nelle scelte gastronomiche sono nell'offerta gastronomica che è un po' diversa da quella che si trova nel resto degli Stati Uniti proseguendo la nostra seconda giornata dopo il pranzo libero nella zona di Quincy Market si attraverserà il fiume Charles e si entrerà in un'altra municipalità che però ha tutti gli effetti è come se fosse Boston è solo al di là di un ponte ed è la zona di Cambridge a Cambridge troviamo due istituti universitari molto importanti allora ci sono 50 istituti universitari in tutta la zona di Boston in maggioranza sono concentrati a Cambridge Cambridge infatti è una zona piena vibrante piena di giovani dove si dice che vengono costruite le menti che creeranno il nostro futuro questo modo di dire non è poi così esagerato se considerate che a Cambridge troviamo l'università di Harvard e il MIT quindi siamo veramente in un in un mix incredibile di creatività accademica ad Harvard Harvard è un'università originariamente si chiamava New College poi questo pastore puritano nel morire regalò tutta la sua biblioteca tutti i suoi libri all'università di Harvard che aveva giusto una ventina di anni e anche tutti i suoi averi affinché l'università fosse diciamo rimodernata e fossero fatti degli investimenti da quel momento in poi l'università ha preso appunto il suo nome lui si chiamava John Harvard ed è diventata l'università di Harvard all'università di Harvard che conta adesso circa 25.000 studenti nel suo campus hanno studiato sette presidenti degli Stati Uniti tra i quali JFK e Obama 75 premi Nobel e poi varie diciamo personaggi il principe Karina Gakhan Bill Gates Mark Zuckerberg come si vede molto bene nel film che narra la storia della nascita di Facebook l'ex vicepresidente Al Gore l'attore Tommy Lee Jones la figlia del presidente cinese Xi Jinping persino il nostro Alessandro Benetton il giocatore di NBA Jeremy Lin ovviamente si accede ad Harvard per capacità ma anche con borsa di studio per meriti sportivi ed è stato anche fatto un film abbandonato dal destino sull'ex senza tetto Liz Murray che anche lei è riuscita a laurearsi a Harvard quindi si farà questa bellissima visita nel pomeriggio dell'università di Harvard del suo refettorio che sembra proprio il refettorio del film di Harry Potter dei vari campus e soprattutto si passeggerà nella zona che circonda questi vari campus questi vari dormitori dove troviamo dei negozietti estremamente carini dei book store ecco l'Harvard book store è uno dei negozi di libri più antichi di tutti gli Stati Uniti e vi consiglio veramente di entrare sedervi su una di queste sedie in pelle consumata e mettervi lì e guardare un po' il passaggio e respirare un po' questa atmosfera il terzo giorno è invece dedicato l'ho chiamata la Boston Canadiana e il Whale Watching queste sono due altre attrattive molto importanti della città di Boston la mattina con la guida e l'accompagnatore vi recherete a visitare la John Fitzgerald Kennedy Library che si trova a Columbia Point che è una zona a nord di Boston che ha un molo che si butta verso il mare quindi è una località particolare è la località che proprio Jacqueline Kennedy l'ex moglie di John Fitzgerald Kennedy ha scelto come ubicazione per la library e il museo dedicati a suo marito così come è stata lei che ha scelto anche l'architetto l'architetto Pei che è un architetto cinese però cresciuto a Boston che è colui che ha disegnato questo straordinario luogo che è la library dedicata a JFK ne vediamo qui uno scorcio interno molto moderno con questa bandiera che scende dall'alto è una delle attrattive più importanti di Boston spesso non così considerata dal turista che vi si reca per la prima volta io suggerisco sempre la visita a questa library come un must perché secondo me spiega molto fa capire molto non solo della testimonianza insomma della storia di Kennedy dei suoi giorni della presidenza delle sue campagne delle sue campagne politiche delle sue lotte ci sono dei suoi ricordi personali delle bellissime fotografie tratte dai suoi album di famiglia ma dà proprio l'idea di quanto ha contato questa storia nella storia globale d'America e quanto questa storia sia rappresentativa proprio di Boston quindi è qualcosa che completa molto bene la visita della città al termine della visita della John Fitzgerald Kennedy Library ci sarà il pranzo libero e si passerà che si farà diciamo nella zona del porto perché poi nella tarda mattinata o nel primissimo primissimo pomeriggio intorno a luna circa si partirà per l'uscita in barca per avvistare le balene perché in New England ci sono così tante balene soprattutto nella zona antistante il Massachusetts perché c'è una concentrazione particolarmente elevata di plankton che si trova proprio all'interno di questa ansa creata dal gomito di Cape Cod che vi ho fatto vedere prima nella cartina questa ansa si chiama Stelwagen Bank ed è un'ansa dove grazie a questa concentrazione elevatissima di plankton si concentrano sempre le balene il plankton è il cibo preferito dei cetacei delle megattere in generale questo è il motivo per cui anche gli avvistamenti sono sempre garantiti non è una una situazione come in altre parti del mondo in cui uno su tre uscite in barca forse in un'uscita si vedono le balene nelle altre due no addirittura infatti gli organizzatori delle uscite di whale watching danno la garanzia degli avvistamenti se no il rimborso perché sostanzialmente non c'è mai il dubbio di riuscire o non riuscire a vedere le balene si tratta di capire quante se ne vedono quanto vicino quanto lontano e se si è fortunatissimi al punto tale da assistere ad una evoluzione della balena che salta quasi fuori dall'acqua come si vede qua in questa foto nel rientrare dal whale watching si tornerà in hotel e in serata è prevista la cena presso questo ristorante Union Oyster House che vedete qui fotografato di cui vi voglio parlare questo ristorante Union Oyster House è il ristorante più antico di tutti gli Stati Uniti d'America è stato fondato nel 1826 ed è un ristorante specializzato in pesce crostacei quindi sostanzialmente il menù tipico consiste nella clam chowder che è la zuppa di vongole seguita poi dalle aragoste cucinate in vari modi uno dei modi più classici di mangiare un'aragosta in New England è con un lobster roll che è un panino morbido abbastanza grande imbottito proprio di questa carne molto carnosa molto solida che hanno le aragoste molto saporita che hanno le aragoste del New England ci sono poi vari modi diciamo però che al di là di quello che offre da un punto di vista gastronomico passare la serata in questo ristorante è un'esperienza molto particolare questo è il ristorante dove Kennedy aveva John Fitzgerald Kennedy aveva il suo tavolo e la domenica pomeriggio andava a leggere i giornali quindi lui troverete il tavolo con la sua targa è il ristorante dove Obama amava trascorrere le serate quindi ci sarà la postazione per Obama è uno spettacolo esplorare queste varie salette piccole che compongono questo ristorante che è su più piani con salette molto piccole ognuna di queste salette ha delle stampe che ricordano delle fotografie che ricordano la presenza di queste persone e l'atmosfera è davvero speciale quindi è un'esperienza che va proprio al di là dell'aspetto gastronomico abbiamo parlato di balene ci restano gli altri due temi i colori del foliage e le streghe il quarto giorno lasceremo Boston con il nostro pullman privato e ci dirigeremo in una zona che viene chiamata proprio si chiama così la regione north of Boston la regione a nord di Boston consentirà di attraversare dei panorami come quello che vedete a sinistra dove appunto il foliage il foliage inteso come il foliage autunnale garantirà degli spettacoli di questo tipo attraverserete quindi località come Marblehead e altri piccoli paesini piccoli villaggi dove avrete degli scenari e dei colori di questo tipo veramente spettacolari è anche bello uscire dalla città e attraversare questi piccoli villaggi dove l'atmosfera è davvero molto cinematografica a parte il colore degli alberi ci sono queste piccole main street questi viali con queste case una più bella dell'altra molto curate con gli addobbi davanti è proprio una visione cinematografica speciale il New England è un luogo di grande bellezza molto raffinato e questa raffinatezza e bellezza non si limita alle città anzi proprio si stratifica anche nei paesino più piccolo nel minimo particolare nella casa anche semplice che mette una coroncina di fiori fatta a mano particolare sulla porta piuttosto che una sedia ad ondolo nel porticato è proprio un luogo della cura della raffinatezza anche nelle piccole cose ci fermeremo a Salem perché Salem Salem viene chiamata la città delle streghe in realtà ben 19 presunte streghe sono state a Salem condannate a rogo verso la fine del 1700 e da allora Salem appunto è stata considerata la città delle streghe che ha un museo dedicato proprio alla magia e alle streghe il Salem Witch Museum che noi andremo a visitare dopo il pranzo libero si proseguirà verso nord attraversando il paese di Manchester by the Sea dove è stato girato un film vincitore dell'Oscar recentemente quindi si tratta di località marinare sulla costa per arrivare fino a Gloucester Gloucester è la città marinara per eccellenza ed è il luogo dove è stato girato non solo dove è stato girato ma dove è avvenuta la storia vera che è raccontata nel film The Perfect Storm la tempesta perfetta con George Clooney è una città abbastanza antica anche questa fondata nel 1633 che da allora ha attirato visitatori proprio per questa sua vocazione marinara qui tutto parla di pesca tutto parla di barche tutte le persone che ci abitano svolgono dei lavori legati alla pesca è un bellissimo oltretutto villaggio costiero tipico del New England quindi si possono vedere proprio entrambe le cose e come simbolo della natura marinara di questa città c'è un grossissimo monumento che si chiama The Man at the Will l'uomo al timone che è il monumento che vuole che si vede anche nel film che vuole onorare i marinai che nel corso di tre secoli di attività di pesca sono andati dispersi in mare a Gloucester faremo la cena in ristorante e rientreremo a Boston per il pernottamento siamo arrivati all'ultimo giorno il giorno della partenza il volo è previsto nella serata nella prima serata questo ci dà quindi la possibilità di dare ai nostri clienti la mattinata a disposizione qui sono tante le cose che si possono fare a Boston che come dicevo è una città anche molto semplice da visitare a piedi ci possono essere delle delle locations che sono state viste nel corso del primo e del secondo giorno quando si è passeggiato lungo il Freedom Trail che si vogliono tornare a visitare per approfondirle per esempio io qui vi ho messo il museo recentemente aperto del Boston Tea Party che offre la possibilità di fare una visita molto particolare dove viene messo diciamo in campo recitato tutto l'episodio relativo appunto alla rivoluzione del Boston Tea Party all'aver buttato in mare queste balle di tea alla scintilla che ha fatto partire la rivoluzione americana qui ci sono degli attori che hanno addirittura che vi metteranno trasformano in spettacolo quello che è avvenuto ma la cosa bella è che gli spettatori quindi voi potrete decidere di partecipare a questi eventi ognuno impersonando una delle persone che veramente erano presenti quindi è una sorta di reacting dinamico interattivo che vi coinvolge direttamente in quanto è avvenuto ovviamente è necessario parlare inglese poter comunicare in inglese con questi altri attori ma è un'esperienza molto particolare che qualcuno magari potrà desiderare fare in alternativa abbiamo lo shopping Boston è una città che offre svariate possibilità di shopping la zona del Quincy Market è una zona dove si può fare tranquillamente lo shopping se volete qualcosa di meno turistico potete andare al Prudential che è un grattacielo all'interno del quale c'è un centro commerciale molto grande oppure se volete cercare il solito classico outlet che gli italiani amano molto ad Assembly Row che sta a circa 8 minuti di metropolitana dal centro di Boston trovate l'ultimo outlet aperto a Boston gli outlets ad Assembly Row che sono stati aperti a fine maggio del 2014 quindi molto recentemente all'outlet di Assembly Row gli amanti della Lego per esempio troveranno il negozio della Lego ma anche una sorta di attrazione dedicata alla Lego che si chiama Legoland Discovery Center che è un parco dove ci sono tutte queste installazioni fatte con con Lego chi non vuole andare al Boston Tea Party chi non vuole passeggiare in giro che è una delle cose più belle da fare a Boston chi non vuole fare lo shopping potrà scegliere di andare a vedersi un museo a Boston ci sono tanti musei il Museum of Fine Arts è uno dei più gettonati ci sono gli impressionisti americani c'è molto rinascimento italiano l'antico Egitto le collezioni d'arte giapponesi molti dipinti di Monet al quale è dedicata una galleria diciamo a parte quindi è veramente una città che offre tanto ognuno di voi avrà modo di scegliere quello che più desidera fare in questa ultima giornata a disposizione a Boston nel tardo pomeriggio ci sarà il trasferimento privato dall'hotel all'aeroporto e la partenza con il volo di linea il pernottamento e la cena saranno a bordo e il giorno dopo si arriverà nelle prime ore della mattina si arriverà in Italia una rapida scheda di quello che comprende questo viaggio la quota di partecipazione è 1799 euro il supplemento singola sono 580 euro l'albergo è un'ottima categoria turistica il comfort in esistono degli sconti per bambini o giovani insomma pre-adolescenti fino a 16 anni non compiuti come vi dicevo i pasti menzionati sono tutti inclusi quindi sono esclusi giusto i pranzi tutte le visite sono incluse così come gli ingressi previsti per le visite che vi ho elencato la partenza è il 10 di ottobre se desiderate proporre questo viaggio come vostra iniziativa di agenzia scrivetemi avete qui il mio contatto ariannachiocciolautat.it scrivetemi e possiamo farvi personalizzare il volantino con il vostro logo affinché voi lo possiate mettere fuori come una vostra iniziativa se volete invece organizzare una serata di presentazione invitando magari 20 30 dei vostri clienti selezionati che secondo voi potrebbero essere interessati ad un viaggio di questo genere volentieri noi verremo io farò questa presentazione in powerpoint su schermo per i vostri clienti se questo può in qualche modo aiutare a consolidare un piccolo gruppetto è un itinerario veramente speciale in un periodo dell'anno specialissimo il migliore secondo me per andare in New England ancora meglio dell'estate è un itinerario insolito una proposta che va bene anche per chi magari è già stato negli Stati Uniti svariate volte è qualcosa di un po' nuovo è qualcosa del quale parlano spessissimo giornali e riviste di categoria ma anche non di categoria il New England il foliage le balene sono proprio delle tematiche che ogni anno ricorrono su tutte le riviste che parlano di viaggi quindi siamo anche aiutati da questo io sono a vostra disposizione per richieste relative a questo viaggio ma non solo perché mi occupo di tutti gli Stati Uniti vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buone vendite per l'attenzione